Si muove sul triangolo delle province Bat Napoli-Salerno uno degli assi più interessanti della seconda giornata di campionato nel girone H di Serie D. Il calendario prevede infatti Palmese Fidelisandria e Barletta Polisportiva Santa Maria Cilento. Entrambe sono in agenda alle 16 di domenica 17 settembre. Entrambe saranno visibili su Telesveva. La trasperta della Fidelisandria a Palma Campania, provincia di Napoli, sarà trasmessa in diretta sul canale 18 e sui canali Facebook e YouTube. Una produzione accompagnata da un hashtag che sarà presente in ogni trasferta delle nostre truppe in stagione, sempre fuori per il calcio. Il tutto arricchito da un ricco pre-partita, dal post-partita con le voci dei protagonisti e dalla possibilità di vedere il match in HD grazie al servizio HBBTV. Sul campo potrebbe essere una Fidelis molto simile a quella vista nelle prime tre uscite stagionali tra campionato e Coppa. Francesco Farina, nel percorso di avvicinamento alla sfida, non ha nascosto le insidie incarnate da un avversario che nella scorsa stagione ha perso solo due volte sul terreno di gioco amico e ha perso i play-off solo all'ultima giornata nel gruppo G. Ogni annata fa però storia a sé. In questa, Scaringella e compagna hanno iniziato tenendo la porta inviolata e segnando sei reti, suddivise tra Gravina e Nardò in casa, cercare il primo centro in trasferta e la missione da inseguire alla prossima curva, differita su Telesveva come per ogni match interno per Barletta Polisportiva Santa Maria Cilento. La missione del gruppo di Ciro Ginestra, rinforzato nel parco under dagli arrivi del portiere classe 2004 Provitolo, del difensore 19enne Susco e dell'attaccante esterno classe 2003 in guscio e quella di dimenticare la sconfitta dell'esordio sul campo della Paganese. K.O. maturato al termine di una prestazione dai due volti, molto opaco il primo tempo, di reazione ma senza agganciare il pareggio il secondo, non è da escludere che per il primo dei due match casalinghi in una settimana, domenica 24 settembre si replica contro il Gallipoli, l'allenatore Biancorosso opti per delle novità, probabili in difesa dove Lobosco si candida per un posto possibile a centrocampo con Cafagna in rampa di lancio, quasi certe in attacco dove Caputo chiede spazio. Si giocherà davanti a una cornice di pubblico tra le più importanti della categoria, assicurata dai quasi 3.000 abbonamenti sottoscritti dalla piazza. Chiaro l'intento, rifare del Puttilli un fortino come successo per larga parte della scorsa stagione e cercare in casa di cancellare quello 0 alla voce, punti in classifica.